SIGLATO IERI MATTINA La stipula del protocollo d'intesa seguiranno iniziative concrete grazie ai progetti che sono già in cantiere. Per chi uscire da logiche di isolamento per provare a crescere insieme rende tutti più forti. Per il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, le zone interne guardano con fiducia alla nuova stagione amministrativa in atto a Capaccio Pestum, anche nella consapevolezza che forme di raccordo tra grandi attrattori culturali, aree naturalistiche come ad esempio quella del Cervati e piccoli centri possano contribuire allo sviluppo di prodotti turistici sempre meglio strutturati.